Ciao ragazzi, ciao ragazze Benvenuti in un nuovo vlogmas Primo vlogmas Allora quest'anno i vlogmas saranno tutti i giorni ovviamente L'anno scorso ne avevo saltati parecchi Però vi dico già che anche fare un try on all sheen sarà un vlogmas Ecco perché l'importante è che a voi escano un video tutti i giorni E comunque sarà tema natale Come vedete alle mie spalle c'è l'albero rosa Adesso vi giro e ve lo faccio vedere meglio Allora l'albero è stato semplicemente aperto Messo le luci e messo giusto quei due o tre addobbi Adesso lo facciamo insieme Questi qua sono quelli nuovi guardate che belli L'unicorno volante con la carrozza in forma di zucca Ho messo una qua e una qua E l'avevo fatto ma ho deciso l'ho disfatto Ho lasciato solo queste Così praticamente lo facciamo insieme ai ragazzi E nulla E l'ucio l'accendiamo per ultime Per ultime E la stella in alto La metterà mio marito quando abbiamo finito di addobbare insieme l'albero Quindi oggi facciamo l'albero di Natale E volevo fare anche la cioccolata Adesso vediamo un attimino come si evolve il tutto E il tempo che c'è fuori fa un tempo freddissimo ragazzi Comunque ragazzi non perdiamoci in chiacchiere Vi si posizionano sul cavalletto e iniziamo a fare l'albero Allora ragazzi qui ho la scatola Con tutti gli addobbi Qui ho altre cose nel centro tavola della tunne Poi ho degli ignomi Che ho poggiato qua Perché appunto devo fare Poi addobberò anche il tavolo Sistemerò con le renne Insomma Aspettate Ah ecco perché si vedeva male Avevo tipo dezoomato E nulla Quindi dicevo Qua ci sono delle cose sul tavolo Perché appunto mi servono Scusate che vado a aprire il cittofono Sarà qualche corriere No era mia mamma Comunque qui ho la scatola con le palline Praticamente che devo mettere Vabbè queste Sono le ultime cose da mettere Questa roba Guardate che belle E prima mi dedico le palline Poi ho C'è un sacco di roba qua Quella che è qui Praticamente Gli si è staccato Vedete qua Che è sull'albero Quando lo devo Cioè quando lo lo devo Quando lo individuo Lo tolgo Attacco con la colla a caldo E nulla Poi qua c'è il fiocco Quelle cose lì appunto Il fiocco va Va lì Poi ci va la stella La stella è qua Che bella Tutta Glitter E paillettes E niente ragazzi Iniziamo Come on Continua Per Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.